E' abbastanza incomprensibile per noi cercare di capire come mai antitrust e notariato abbiano a che fare l'uno con l'altro. Però c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha frenato il tentativo dell'autority di tenere le istituzioni notarie sotto il proprio controllo. Ma che c'entra, Notaio Manzini, l'antitrust con il notariato e con le professioni? L'antitrust, come è noto, è un'autorità amministrativa indipendente istituita da una legge dello Stato del 1990 a garanzia della libera concorrenza e del mercato. E' un'autorità composta da due centinaia di membri e gli organi sono il Presidente, il Segretario Generale e il Collegio. Con il notariato ha avuto a che fare più volte in passato intervenendo nei procedimenti disciplinari delle nostre istituzioni nei confronti dei notai. E' recente una vicenda che ha coinvolto appunto la Corte Costituzionale adita dall'antitrust su una questione di legittimità costituzionale, di una norma introdotta nella legge notarile, precisamente l'articolo 93 Ter, introdotta appunto dalla legge di bilancio del 2018, in vigore dal 1 gennaio 2018, volta a sottrarre all'antitrust il potere di ingerirsi nei procedimenti disciplinari notarili. E qual è l'origine di tutto questo? Che vicenda ha dato un po' il là a questa situazione? La vicenda è nata a Milano, dove il Consiglio notarile ha richiesto ai notai a tappeto la produzione di dati sensibili dal punto di vista della concorrenza nel suo potere pubblicistico di vigilanza sull'attività dei notai. E quindi alcuni notai che sono stati personalmente toccati da queste vicende hanno ricorso all'antitrust, sostenendo la condotta repressiva della concorrenza ad opera del Consiglio notarile di Milano. Durante l'istruttoria del Collegio dell'antitrust è intervenuta una norma, questa norma appunto introdotta nella legge notarile, che ha sottratto all'antitrust il potere di ingerirsi nelle iniziative disciplinari dei consigli notarili distrettuali. L'antitrust, dal canto suo, è ricorsa alla Corte Costituzionale per sollevare la questione di legittimità costituzionale di questa norma, per contrarietà con la libera iniziativa economica, l'articolo 41 della Costituzione, oltre ad altre norme della Costituzione. Ma questo è un problema che riguarda soltanto i notai o anche altri professionisti? In realtà l'antitrust è intervenuta anche nei confronti del Consiglio nazionale forense, con una vicenda che è ancora in corso. Il Consiglio nazionale forense era intervenuto per reprimere i comportamenti di questa corsa al ribasso di questo mercatismo darwiniano delle professioni, per cui si antepone una industrializzazione della professione e quindi del profitto rispetto alla qualità. Questa è la tesi sostenuta dalle istituzioni, sia dei notai che degli avvocati. Dunque questa sentenza numero 13 del 2019, depositata il 31 gennaio, costituisce un importante precedente, anche se dobbiamo sottolineare che non è entrata nel merito della questione, ma ha sancito l'incompetenza dell'antitrust a sollevare la questione di illegittimità costituzionale di questa norma, in quanto l'antitrust non sarebbe un giudice e non si troverebbe all'interno di un giudizio, ma sarebbe una parte di questo procedimento e quindi, benché autorità indipendente, non avrebbe il requisito della terzi età che è richiesto ai soggetti che possono adire la consulta. Quindi a questo punto l'antitrust non si occuperà più di notai? In realtà la vicenda riguarda solo gli aspetti dei procedimenti disciplinari. L'antitrust potrà essere adita per altri aspetti che riguardano l'attività notarile in quanto attività economica, seppur connotata da un forte requisito pubblicistico. Ricordiamo che siamo pubblici ufficiali, oltre che liberi professionisti, e che i nostri organi, i consigli notarili distrettuali, esercitano un'attività di vigilanza sull'attività dei notai che è a tutela dell'intera collettività. Questa attività di vigilanza comporta anche la possibilità di iniziare procedimenti disciplinari verso i notai che sono comunque detentori di un potere di certificazione che attribuisce pubblica fede, che dà certezza ai traffici giuridici in funzione preventiva delle controversie. Dobbiamo immaginare anche il caso contrario. Possono i notai stessi rivolgersi alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità? Questa sentenza, che ha sancito appunto la non terzietà dell'antitrust dell'autority per adire la consulta, ha chiarito quali sono i requisiti del soggetto che può adire la Corte Costituzionale per questioni di legittimità costituzionale. In passato è stato ritenuto legittimato l'arbitro in quanto soggetto estraneo agli interessi della vicenda che è sottoposto a giudicare e non è stato ritenuto legittimato il PM, il Pubblico Ministero, non è stata ritenuta legittimata appunto l'antitrust. Quanto ai notai, nella vicenda di cui stiamo discutendo, come notai ricorrenti e intervenienti, potranno, di fronte a un'impugnativa di un'eventuale archiviazione dell'antitrust, di fronte al TAR del Lazio, come avviene in questi casi, potrà essere risollevata la questione di illegittimità costituzionale, che un notai lo possa fare poi autonomamente al di fuori di questa vicenda. Ritenuto un soggetto giudice, diciamo un giudice speciale, la giurisprudenza della consulta è stata molto elastica al riguardo, sempre però basata sul requisito della terzietà, quindi deve trattarsi di un giudice all'interno di un giudizio, seppur in senso lato. Ecco, per i notai la questione è aperta, però Autorevole Dottrina ha sostenuto la competenza del notaio ad addire la consulta.